scusate per questa improvvisa interruzione c'è stata una piccola cosa e poi sbagliato ho fatto dividere pure il video ma non so come fare, non so come unirlo me lo faccio fare da qualcuno dai e va bene, sono quasi arrivato alla fine del video e ragazzi, spero che questo video diciamo proprio, vi sia piaciuto adesso vi devo far vedere tutte le impostazioni ok ragazzi ci siamo quasi ok, madonna, una lentezza incredibile sto iniziando ad odiare minecraft sul telefono sono fortissimo anche perché non laga mai là quello è bello e poi mi dovete spiegare anche perché ci sono i lag esistono questi lag qua eh dai, 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 per favore ok, no, sto controllando la mia cosa ragazzi scusate se non sto parlando in questi bucchi e racconti perché non so neanche cosa devi per non fare, diciamo per non ripetere e anche perché non ho voglia proprio di parlare perché oggi sarà una bellissima giornata proprio intensa un po' più intensa di urla mi devo andare da una parte e quindi diciamo che voglio tenermi un po' la voce e voglio tenermi anche un po' di fiato perché questa cosa succederà tipo alle 4 tipo fra un po' ecco perché c'è stato questo piccolo, diciamo, lag cioè non lag si è diviso il video io pensavo si fosse messo in pausa però, beh, a quel paese che ore sono? diciamo che sono quasi le guardate come va lissimo ragazzi va lissimo cioè guardate quello per il cielo è lissimo guarda che bella situazione guarda qua è l'ag di brutto ma porca di quella loggia eh ok ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto scrivetemi nei commenti qualche cosa tipo che cosa potrei fare ovviamente poi vedete in un prossimo video che adesso non ho voglia di fare se non siete ancora iscritti iscrivetevi e adesso mostrerò quelle cose là non le statistiche le impostazioni scusate allora questo è scusate ragazzi è caduto un po' il telefono me ne sono provoca accorto accorgiuto ok questi test screen cioè capace che cazzo si comunque ho fatto le impostazioni video cioè allora allora guardate no allora grafica sofisticata che trocetto sofisticata veloce io lascio sofisticata luce soffusa non so che sia comunque l'accendo 3d 3d mi pare che è il 3d giusto si si quindi a me non interessa dimensione gui normale vabbè quello non c'entra niente perché diciamo che me lo ricordo particelle tutte schermo intero off perfetto è vero posso stare questo qua nei video è vero me l'ho dimenticato proprio ricordate che si trova in postazioni video poi distanza rendering normale corto minima minchi veni lontana cos'è lontana no scusa non ho letto e quindi è consigliato l'utilizzo della versione a 64 byte di java per la distribuzione lontana tu e la versione 32 byte vabbè comunque non lasciamo normale poi per la lontana ne parleremo in futuro prestazioni bilanciate le prestazioni non mi ricordo che caso le nuove mi piacciono pacchetti grafici non mi serve perché non ho internet ok controlli eh si questi sono i famosi tasti slash comando elenca giocatori tab devo cambiare tab sezione blocco tasto 3 attacco tasto 1 ok poi mi ci abituare con i dati cioè con le mani c'è attività vabbè link esterno ok opacità se la metto qua se la mettersi qua se la mettersi qua ok si è bloccato il dito non so se lo puoi muovere ok lingua vabbè iniziano di nuovo questi piccoli lag vabbè touchscreen mode vabbè fob non so che capio sia fatto e ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto scusate se lo ripeto per la tre miliardissima volta e la versione di minecraft potete leggere in basso ad sinistra e mi raccomando iscrivetevi al canale e bella raga grazie a tutti a Grazie.